Un piano di manutenzione straordinaria nelle municipalità che comprenda ogni anno un'area verde, quindi un parco o un'area verde in ogni caso, un asseviario principale e una piazza. La rigenerazione urbana è sicuramente una priorità. Insieme a questa abbiamo detto la messa in sicurezza delle nostre scuole. Esistono fondi e risorse destinati a questo, vanno utilizzate fino all'ultima lira, disponibili, e poi il trasporto pubblico. Il trasporto pubblico oggi è uno dei servizi pubblici peggiori di questa città. Ricordiamo che Napoli è una città che paga molte tasse e che ha una qualità di servizi pubblici molto bassa.